Il Senato della Repubblica sta avendo ampio spazio per dibattere e mi sarei aspettata che dai senatori dell'opposizione arrivassero quei contributi e quelle proposte che a loro dire sarebbero stati silenziati dal ricorso al voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Così non è stato. Al libro bianco sulla scuola, scritto sotto legida dei ministri, legida dei ministri Fioroni e Padoa Schioppa, libro bianco che invito a leghi, scritto sotto legida dei ministri, legida dei ministri Fioroni e Padoa Schioppa. Il ministro Germini, lo, il ministro Germini, sotto legida dei ministri, lo, il ministro Germini.